Gli amanti del tiro sportivo sembrano aver scelto l'Umbria e i suoi paesaggi come mete preferite dove poter praticare al meglio la loro passione. Dopo il successo dei campionati del mondo di Sporting 2016, infatti, il tiro a volo piancardato di collazione è stato selezionato nuovamente dalla Federazione Internazionale di Tiro con Armi Sportive da Caccia per ospitare due nuovi grandi eventi. Nella struttura presieduta da Marsilio Palermi si svolgeranno dal 7 al 10 giugno il 51esimo campionato europeo di Sporting e dal 29 giugno al 1 luglio l'undicesimo campionato europeo di tiro combinato. Una vetrina decisamente importante per tutto il territorio regionale, visto che sono attesi complessivamente quasi 1000 atleti prevenienti da circa 30 paesi europei con famiglie e staff tecnici. Oltre con l'azione, coinvolte negli eventi anche Todi e Gualdo Cattaneo. Nel centro storico della prima, mercoledì 6 giugno, si svolgerà la cerimonia inaugurale del campionato Sporting, mentre nella seconda, giovedì 28 giugno, si trarà l'apertura del campionato di tiro combinato. Gli atleti dello Sporting si sfideranno fu 32 postazioni in 8 campi, gara, tutti diversi tra loro, sia nell'ambientazione che sul piano tecnico. 8 saranno le postazioni sulle quali si effettueranno le prove libere e quelle ufficiali in programma dal 2 al 6 giugno. Atleti appassionati potranno inoltre avere a disposizione 4 campi sui quali provare i migliori fucili al mondo dei diversi produttori italiani. Per la disciplina del combinato, gli atleti si sfideranno su 6 campi gara, tutti concentrati nella struttura del TAB Piancardato. Era una scommessa nel 2016 con questo evento importante, dove sia la Federazione Internazionale che la Federazione Italiana di Ravolo ci ha creduto, ci hanno sostenuto le istituzioni locali. Abbiamo questo evento che ad ora è ancora stato classificato, è stato etichettato come il Mondiale dei Mondiali. Questo è il nostro successo insieme a tutti i collaboratori, ci ha permesso di essere assegnatari di questo nuovo evento, che è l'Europeo di Sporting. Non solo questo, la nostra sorpresa è stata che ci è stato assegnato anche il secondo evento, a distanza di circa 25 giorni, che è sempre un europeo di tiro combinato da caccia. Dove è una disciplina nuova per la prima volta in Italia, che si svolge con armi rigate e con armi a canna liscia, ecco perché è combinato. Si spara ai piattelli e a sagome con canna liscia.